Ricorre oggi la giornata mondiale dello sport per la pace e lo sviluppo, indetta dalle Nazioni Unite. Mi rivolgo agli uomini e alle donne di sport, perché attraverso la loro attività possano essere testimoni operosi di fraternità e di pace. Lo sport, con i suoi valori, può svolgere un ruolo importante nel mondo aprendo strade di concordia tra i popoli, a patto che mai perda la sua capacità di gratuità dello sport per lo sport e non diventa commerciale quella amatorialità propria del vero sport. Grazie a tutti.